Anticipazioni Uomini e Donne Un'altra cancellazione per Maria De Filippi Uomini e Donne non va in onda oggi lunedì 25 aprile la scelta di Mediaset Dopo il lunedì di Pasquetta ecco che lunedì 25 aprile il programma di successo di Maria De Filippi non andrà in onda Preferendo godersi un meritato giorno di riposo dopo una settimana intensa di programmazione pomeridiana Non è la prima volta che il dating show di Canale 5 si prende un giorno di riposo durante le festività che ci sono nel corso dell'anno Non ha niente paura per tutti quei fan irriducibili che si sentiranno giustamente orfani lunedì pomeriggio Il programma tornerà regolarmente in onda a partire da martedì 26 aprile Cosa va in onda al posto di Maria De Filippi? Un film della serie Rosamund e Pilker? Ma se lunedì pomeriggio Uomini e Donne non andrà in onda come il pubblico si sarebbe aspettato Cosa ci sarà al suo posto? Qui entra in gioco la grande fantasia di cui è dotata Mediaset alle 14? 45 andrà in onda il film Rosamund e Pilker La lettera La trama del film prodotto in Germania nel 2016 è la seguente La giornalista Lilla scopre di essere stata esclusa dall'eredità di suo padre Nonostante questo, però, decide di lavorare nella rinomata rivista paterna fino a quando non trova una vecchia lettera che aprirà nuovi e inaspettati orizzonti di vita Insomma, una pellicola fatta apposta per un certo tipo di pubblico, dedito al romanticismo e alle storie semplici Maria De Filippi, successo d'ascolti Cosa sta succedendo alle dame e ai cavalieri? Pino a essere un successo incredibile uomini e donne con tutti i suoi protagonisti ovvero le dame e i cavalieri più amati dal pubblico Sono cambiati gli equilibri, d'altronde se prima Gemma Galgani regnava incontrastata A tenere banco non è solo Pinuccia con le sue liti assurde con l'opinionista Tina Cipollari e Ida Platano l'amica di Gemma finita nel mirino di Sabella, ed eterna indecisa sentimentale Per non parlare dei due tronisti ancora lontani dalle loro scelte sentimentali che avverranno al centro dello studio, con tanto di pioggia di petali rossi, quando verrà il momento fatidico L'appuntamento per una nuova puntata di Uomini e Donne è per martedì pomeriggio Uomini e Donne non va in onda oggi lunedì 25 aprile la scelta di Mediaset O il lunedì di Pasquetta ecco che lunedì 25 aprile il programma di successo di Maria De Filippi non andrà in onda Preferendo godersi un meritato giorno di riposo dopo una settimana intensa di programmazione pomeridiana È la prima volta che il dating show di Canale 5 si prende un giorno di riposo durante le festività che ci sono nel corso dell'anno Niente paura per tutti quei fan irriducibili che si sentiranno giustamente orfani Lunedì pomeriggio il programma tornerà regolarmente in onda a partire da martedì 26 aprile Va in onda al posto di Maria De Filippi un film della serie Rosamund e Pilker Se lunedì pomeriggio Uomini e Donne non andrà in onda come il pubblico si sarebbe aspettato Cosa ci sarà al suo posto? Qui entra in gioco la grande fantasia di cui è dotata Mediaset alle 14 35 andrà in onda il film Rosamund e Pilker La lettera La trama del film prodotto in Germania nel 2016 è la seguente La giornalista Lilla scopre di essere stata esclusa dall'eredità di suo padre Nonostante questo, però, decide di lavorare nella rinomata rivista paterna fino a quando non trova una vecchia lettera che aprirà nuovi e inaspettati orizzonti di vita Insomma, una pellicola fatta apposta per un certo tipo di pubblico, dedito al romanticismo e alle storie semplici Maria De Filippi, successo d'ascolti cosa sta succedendo alle dame e ai cavalieri Continua a essere un successo incredibile uomini e donne con tutti i suoi protagonisti ovvero le dame e i cavalieri più amati dal pubblico Sono cambiati gli equilibri, d'altronde se prima Gemma Galgani regnava incontrastata A tenere banco non è solo Pinuccia con le sue liti assurde con l'opinionista Tina Cipollari e Ida Platano l'amica di Gemma finita nel mirino di Sabella, ed eterna indecisa sentimentale Non parlare dei due tronisti ancora lontani dalle loro scelte sentimentali che avverranno al centro dello studio con tanto di pioggia di petali rossi, quando verrà il momento fatidico Appuntamento per una nuova puntata di Uomini e Donne è per martedì pomeriggio Uomini e Donne non va in onda oggi lunedì 25 aprile la scelta di Mediaset Dopo il lunedì di Pasquetta ecco che lunedì 25 aprile il programma di successo di Maria De Filippi non andrà in onda Preferendo godersi un meritato giorno di riposo dopo una settimana intensa di programmazione pomeridiana Non è la prima volta che il dating show di Canale 5 si prende un giorno di riposo durante le festività che ci sono nel corso dell'anno Ma niente paura per tutti quei fan irriducibili che si sentiranno giustamente orfani lunedì pomeriggio Il programma tornerà regolarmente in onda a partire da martedì 26 aprile Rosa va in onda al posto di Maria De Filippi un film della serie Rosamund e Pilker Se lunedì pomeriggio Uomini e Donne non andrà in onda come il pubblico si sarebbe aspettato Cosa ci sarà al suo posto? Qui entra in gioco la grande fantasia di cui è dotata Mediaset alle 14 35 andrà in onda il film Rosamund e Pilker la lettera La trama del film prodotto in Germania nel 2016 è la seguente La giornalista Lilla scopre di essere stata esclusa dall'eredità di suo padre Nonostante questo, però, decide di lavorare nella rinomata rivista paterna fino a quando non trova una vecchia lettera che aprirà nuovi e inaspettati orizzonti di vita Ma, una pellicola fatta apposta per un certo tipo di pubblico, dedito al romanticismo e alle storie semplici Maria De Filippi, successo d'ascolti cosa sta succedendo alle dame e ai cavalieri Continua a essere un successo incredibile Uomini e Donne con tutti i suoi protagonisti ovvero le dame e i cavalieri più amati dal pubblico Non sono cambiati gli equilibri, d'altronde se prima Gemma Galgani regnava incontrastata Ora a tenere banco non è solo Pinuccia con le sue liti assurde con l'opinionista Tina Cipollari e Ida Platano l'amica di Gemma finita nel mirino di Sabella, ed eterna indecisa sentimentale Per non parlare dei due tronisti ancora lontani dalle loro scelte sentimentali che avverranno al centro dello studio, con tanto di pioggia di petali rossi, quando verrà il momento fatidico Appuntamento per una nuova puntata di Uomini e Donne è per martedì pomeriggio Appuntamento per una nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di Uomini e Donne è per la nuova puntata di U